Sono previsti a livello nazionale limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda, anche se ancora non è stato indicato l'orario e sempre al netto delle situazioni di necessità. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato alle Camere il coprifuoco per arginare la diffusione del Covid-19. Chiuderanno, ahimè, anche Musee e Mostra, giunge anticipando così i contenuti del prossimo DPCM. Chiuderanno anche sale scommesse ai videogiochi. Il Governo prevede a livello nazionale di adottare limiti di spostamento dai verso le regioni che presentano elevati livelli di rischio, tranne che per motivi di lavoro, salute e comprovate necessità. È stata prevista anche la riduzione del 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali. Inoltre si pensa di disporre la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali ed eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di alimentare e tabacchi che si trovino all'interno dei centri commerciali. Per quanto riguarda le scuole superiori, il Governo pensa alla possibilità di passare integralmente alla didattica distanza. E poi, spiega il Premier, riteniamo necessario assumere una decisione che contempli nuovi interventi restrittivi modulati sulla base del livello di rischio concretamente rilevato sul territorio. Sulla base dei criteri scientifici e oggettivi sarà necessario introdurre un regime differenziato basato su diversi scenari regionali. In sintesi, chiusura dei centri commerciali nel weekend, chiusura di tutti i punti scommesse, gioco ai videogiochi ovunque siano ubicati, chiusura di musei e mostre, riduzione fino al 50% della capienza massima sui mezzi del trasporto pubblico, limitazione agli spostamenti dai perregioni con situazioni più critiche, limitazione agli spostamenti in un rario sedale, nei soli casi di esigenze lavorative, di salute, di estrema urgenza. Grazie. Grazie.